Miss Arocovino, bisognava vincere questa prima partita in casa perché è necessario immediatamente cancellare questi 5 punti di penalizzazione. Si è sulla buona strada per quello che si è visto in campo. Diamo un giudizio globale di questa prestazione a quilotta sui 90 minuti. Beh, ho visto una squadra che ha fatto 100 passi avanti rispetto a quella di Agropoli. Abbiamo, penso, dominato in lungo e largo nel primo tempo. Poteva finire tranquillamente, non dico cavolate, se dico con 5 gol di scarto. Per quello che abbiamo costruito abbiamo trovato un portiere fenomenale dall'altra parte che ci ha privati di questa possibilità. Però ho visto tante cose belle, tante idee, tanti gioco, grandissima intensità. Poi secondo tempo abbiamo regalato 20 minuti, ma come è giusto che sia. C'è una squadra che sta perdendo, non hai concretizzato tutto e ti metti un po' là dietro. Ma poi siamo ancora fuori noi, cambiando qualcosina, palleggiando di più a centrocampo, mettendoli in alti vertice basso. Lì siamo stati un'altra volta padroni del campo e la partita è finita. Noi ci sono ancora dei giocatori importantissimi fuori, come Platone. Abbiamo preso il sesso siciliano è fuori condizione. Ci sono d'avanzo, non è in condizioni, ha fatto un primo tempo bellissimo, poi è scomparso. Noi dobbiamo recuperare ancora un po' di stata rispetto agli altri. Fisicamente abbiamo lavorato non tantissimo, siamo partiti tardi. Questo è il nostro problema di adesso. Però con questo entusiasmo, con questa gente, penso che potremmo veramente andare lontani. Oggi ci hanno spinto nei momenti difficili e sono contento. Massimiliano Vadacca, questo inizio di stagione sicuramente non te lo sarei immaginato così, con una sconfitta. Cosa puoi dire innanzitutto ai tuoi per questa partita? Dobbiamo migliorare sicuramente in fase difensiva. Abbiamo commesso un po' troppi errori, sia il terzo o il primo gol. Potevamo gestire meglio. Dovevamo essere più difensori che a volte siamo troppo belli, troppo puliti. Prima il difensore e poi pensiamo a giocare. Hai detto troppo belli, troppo puliti. In alcune occasioni infatti avete anche giocato bene, avete gestito bene la palla. Bella è ripartenza, avete messo in difficoltà in ambasce la retroguardia metelliana in più di un'occasione. Però quando c'è stato da concretizzare, da difendere magari questo vantaggio a quel punto iniziale, non siete stati all'altezza della situazione. No, potevamo prendere gol in altre circostanze dove la Cavesa ha fatto delle buone manovre. Invece abbiamo preso gol una volta centralmente, abbiamo perso un rimpallo se trovavo da solo. Il secondo, un ricordo ingenuo, bravo anche l'attaccante a procurarselo. Però tutto sommato abbiamo un'idea di gioco, bisogna continuare su questo e cercare di fare meno errori in fase difensiva. Ma la società del Manfredone, quale obiettivo ti ha chiesto? Niente, la salvezza, siamo una squadra molto giovane. Il mio modo di fare è quello di cercare di dare un'idea di gioco a questa squadra. È una gente tutta giovane, ha la prima esperienza, la maggior parte, in Serie D. Secondo me abbiamo fatto a tratti una buona partita, abbiamo messo in grossa difficoltà la Cavesa, dove forse sul 2-1 potevamo pareggiare. Poi siamo stati molto ingenui a prendere il terzo gol, una palla lunga ci ha superato in velocità e da lì è finita la partita.